una sostanziale differenza a livello anche di numeri di pericolosità delle azioni che ci sono state. Detto che loro hanno preso un palo da 30 metri che sta più nelle qualità del tiro di un calciatore, noi forse ne abbiamo presi quanti se vogliamo parlare di pali, forse siamo rimasti più noi al palo che altri e per me questa non è polemica, è solo un dato di fatto, non mi interessa, ti assicuro che non gli do proprio peso, cerco invece di leggere meno ma di guardare concretamente quello che sta facendo questa squadra e non di favori fino adesso, quello che ci siamo guadagnati sul campo ci sono guadagnati attraverso un duro lavoro, questo è certo. Detto questo, mi diceva De Lecce, devo fare i complimenti a mister Roberto D'Aversa che è anche un amico che è delle mie parti e spesso giochiamo a padel insieme e contro ed è molto bravo a padel, devo dire che sta facendo anche un ottimo lavoro in questo momento a Lecce, dove ha dato una precisa identità della squadra, dove è una squadra che ricerca anche di essere aggressiva, di fare la partita, tanti aspetti positivi e sono contento per lui che si sta prendendo anche qualche piccola rivincita rispetto a quello che è stato un po' le sue vicissitudini che abbiamo avuto fondamentalmente anche un po' insieme nel periodo un pochino più buio, sta facendo un ottimo lavoro, gli devo fare i complimenti. Ottima squadra, ottime giocatori che hanno acquisito maggiore consapevolezza rispetto magari anche all'anno precedente dove venivano da un solo anno di Serie A, in questo momento hanno una squadra veramente solida che sa quello che vuole. Martini? Mister, buon pomeriggio, lei ha detto che quando parla ai suoi ragazzi dice sempre di avere pazienza nel senso di prepararsi al momento che arriverà, allora le chiedo con l'emergenza difensiva di questo periodo a che punto è della sua preparazione l'usuardi per eventualmente vederlo in campo insomma se ci sarà bisogno. E' un giocatore che devo e sto tenendo assolutamente in considerazione, è normale che la pazienza come dici tu è fondamentale, devo dire che il ragazzo mi mostra pazienza, poi bisogna vedere se realmente dentro di sé ce l'ha, sta lavorando veramente con grande attitudine, con grande volontà, è normale che viene da un mondo, da un campionato, da un pensiero totalmente diverso da quello che noi stiamo facendo, ma sta crescendo tanto, però la cosa che mi piace più di l'usuardi è la sua applicazione, la sua attenzione, la sua voglia di mettersi sempre costantemente ogni giorno a disposizione del proprio allenatore e dei propri compagni di squadra, vedremo, magari ci sarà, un domani ci sarà, però dirti quando sarà il momento non te lo posso dire. Paniccia? Buonasera mister, Paniccia di Savantrasti, al termine della partita con il Milan ho sentito parlare di un Frosinone in emergenza al di fuori dello stirpe, però finora si è giocato con Roma, Bologna, Inter, Milan, è un po' prematuro parlare di emergenza? Ma difficoltà forse più che emergenza, voi mi intende credo, sicuramente i risultati dicono che noi fuori casa abbiamo fatto troppo poco rispetto a quello che avremmo voluto e mi auguro di partire già dalla partita di sabato e cercare di migliorare questo dolorino di marcia, però se dopo mi chiedete delle prestazioni cambia un pochino il mio pensiero, devo dire che sì ci sono stati degli errori come in altre occasioni ci sono stati, ma la squadra ha sempre dato il senso di voler fare la partita, di essere dentro la partita in ogni occasione, in tutte le partite anche dove non c'è andata bene. Ultime due, Jacobelli e Marzilli, abbiamo fatto? Mister Salve, Alessandro Jacobelli di G24.info, nel 2011 se non ricordo male, lei guidò per un periodo fino a decembre, se non sbaglio è Lecce proprio. Ecco, che ambiente, che contesto dovrà attendersi la squadra, il Frosinone? Perché conosciamo Lecce anche come una piazza molto calda, molto passionale. Innanzitutto ci sono tornato volentieri negli ultimi anni sia in vacanza, ma anche perché ci giocava mio figlio, io ero a casa e sono andato spesso a trovarlo. Sono andato a vedere una partita sola perché a me non piace tantissimo andare allo stadio a vedere le partite, ma le ho viste un po' tutte. C'è grande entusiasmo, anche l'anno scorso ce n'era tantissimo, si sono salvati, stanno facendo bene quest'anno. È un ambiente non facile, difficile. Per quanto riguarda invece la mia esperienza, ero un giovane allenatore dove, mi ricordo benissimo, sono arrivato in una società che voleva vendere. C'erano allora i seme raro. Alla prima conferenza dissi che volevo riportare entusiasmo gente allo stadio e la proprietà. La proprietà è la prima cosa che mi disse, lei mi sa non deve portare nessuno allo stadio perché dobbiamo vendere. Nel senso non siamo partiti benissimo dal punto di vista del livello morale, anche nei confronti di un allenatore che faceva la prima esperienza in Sera A, poi non è andata come doveva, siamo passati anche lì a una partita, non te la racconto, un po' tra virgolette storiche al contrario. 3-0 col Milano, poi ne abbiamo, sono, ce l'ho questi colpi, ho capito, mi riporto un po' dietro. Dopo un primo tempo, non dico bello, magnifico, ci siamo ritrovati con tre gol di Boatenghi, non so come tirava faceva gol. Quel giorno lì non si sapeva come gli arrivava ed era pure una partita, se vi ridico anche l'orario, lascia stare, infatti domenica avevo un po' di timore in questo senso qua, mezzo giorno e mezzo. Non dico niente, legata un po' a quella che abbiamo già fatto in Sardegna. Però, città stupenda, piace tantissimo, posto, gente per bene. Io mi sono trovato benissimo a Lecce, sotto tutti i punti di vista. Un bellissimo ricordo, al di là dell'aspetto, perché noi valutiamo sempre, magari come va, l'aspetto sì, calcistico, lavorativo, sia importante, ma anche il valore umano delle persone che incontri, che te li ricordi e si ricordano di te anche nel tempo, ti fa solamente piacere. Ultima, Marzilli. Marzilli, Radio Cassino, buonasera mister. Una settimana che si concluderà il prossimo fine settimana. Tre partite difficilissime, sicuramente a livello atletico ci ha già spiegato come stanno i ragazzi, ma a livello mentale su che cosa sta lavorando? Grazie. Anche un po' il discorso che facciamo prima, il fatto che fuori casa abbiamo fatto pochi risultati ultimamente, è far capire ai ragazzi che per noi non deve cambiare l'approccio, anche quell'attenzione, quell'applicazione che abbiamo dentro casa, quel desiderio di arrivare al risultato attraverso anche la sofferenza degli ultimi 15 minuti della settimana scorsa e di domenica. E non ce la dobbiamo dimenticare, fuori casa deve essere lo stesso atteggiamento, la capacità di mettersi due tappe nelle orecchie e concentrarsi come se stessimo giocando lo stirpe. Stessa mentalità, stesso aspetto e la filosofia può cambiare qualche strategia, ma la filosofia deve essere quella che stiamo portando avanti dall'inizio. Grazie a tutti.